La numero 9, Felicia Maria Mastroianni! Ripartito! Il concorso più bello, coinvolgente ed entusiasmante dell'estate, Miss Italianissima! Sei un amministratore? Un organizzatore di eventi? Chiamaci per ospitare una tappa del nostro concorso nella tua città. Spettacolo, moda, promozione turistica e la presenza di radio e tv regionali renderanno questo evento unico per la tua città.